C'è la struttura in titanio sotto e poi sopra c'è un polimero, sopra poi si mette lo zirconio. Titanio, cromo cobalto, non c'è differenza. Diciamo che il titanio lo mettiamo quando c'è molto da ricostruire, perché è la metà del peso. Capito? Allora se io c'ho molto da ricostruire è meglio il titanio. L'unica differenza è quando lo sabbi uno fa scintille e l'altro no. Titanio fa scintille quando lo sabbi. Aspetta, ce l'ho, te lo faccio vedere. Dove è che ce l'ho il titanio che fa scintille? Dottori qua? Puoi vedere se ce l'ho qua sui video? Media? Non ce l'ho, vabbè. Se lo trovo ve lo carico sul gruppo, è simpatico a vedere. Se lo trovo in sestetico non cambia niente? No, perché il titanio è... Molti si dicono, ma il titanio è biocompatibile. No, perché queste protesi, la barra in titanio non entra dentro le gengive, non è dentro l'osso. Ci hai accontato lì gli impianti, con i multi unit che sono in titanio, sopra le gengive ci puoi mettere quello che vuoi.